Ciao a tutti, ogni tanto parto con questa enfasi quando giochiamo a Linda Brown, quindi ciao a tutti e benvenuti nel terzo episodio di Linda Brown, anche se in realtà nel gioco siamo al secondo episodio, però vabbè, clicchiamo e andiamo avanti. Dove eravamo rimasti? Ah sì, sì sì sì, mi ricordo, Drausio ha chiesto al nostro Rodrigo dove erano le fedi, ma sembrerebbe che il nostro amichetto le abbia perse, quindi vediamo un po' adesso il casino che è successo, andiamo avanti, vai. Eccoci, eccoci, no non voglio riavviare questo episodio, ah devo andare avanti, oh mamma mia, andiamo al pezzo avanti e basta. Ok, eccoci qui, siamo, anzi eravamo rimasti, rimaste, a Drausio con la bocca aperta che dice, cosa? Oh mio Dio! Quindi andiamo avanti. Sono cadute? Dove? Ma chi l'ha detto? Che cosa? Come fa a saperlo? Oh mio Dio, vado a controllare nella mia stanza. Cioè, ah no, allora è stato lui, è stato lui. Aspetta, no, possibile. Che succede? Ti aiuto a cercarle, vai, vai, datti da fare. Questa mattina sono passato dall'altare. Eh? Devono essere lì. Alla faccia, raga? Cioè, guardate qui. Allora, ricapitoliamo, facciamo i detective in questa puntata. Mi hai detto che l'avevi con te quando sei arrivato. Ok, clicchiamo sul bicchiere. Cos'hai mangiato? Ah no, così hai mangiato, madonna, perché non so leggere, uccidetemi. Così hai mangiato un toast con Milton in questo tavolo. Ok? Poi, forse sono qui, da qualche parte sul tavolo. Si è illuminato qualcosa? No, vero? Non si è illuminato nulla. Ok, qui non c'è niente. Vediamo qui. Non le vedo. Quindi, cosa hai fatto dopo? Ho lasciato lì la mia fotocamera. Forse sono dentro la borsa? Vediamo un po'. Apriamo la borsa. Eh? Non ci sono neanche qui. Vabbè, ma controlla meglio, cacchio. Vabbè. E se cerchiamo più in là? Più in là dove? Eh, tipo, più, più, più qui? Che significa più in là, raga? Ma io non vedo nulla che se lo... Ah, posso fare così? Una giacca. Ehi, cosa ci fa la tua giacca sulla sedia? Se la sarà tolta? Suppongo che non hai controllato nelle tasche. Vediamo un taschino. Beh, cioè, ma questo è cretino. Ce l'aveva nella tasca. Eccole, sono qui. Eh, bravo, svegliati, eh. Vabbè. Sei fortunato ad avermi qui per aiutarti, mamma mia. Ma ci sono io dietro al gioco, raga. Non siete voi, sono io. Sicuramente hai appena vinto un tour per la città. Domani? Sì, intanto questo che ci prova di continuo. Mamma mia. Ti piace l'idea? No. Sarebbe bello o non sono interessata? Che facciamo? Oh mio Dio, che faccio? Non lo so. Dai, sarebbe bello. Mi butto o non mi butto? Dai, mi butto. Sarebbe bello. Va bene, va bene. Rodrigo è una bellissima idea. Ti piacerà? Sarà un bel... Sì, sarà... Vabbè. Ciao, 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 ciao. Non so parlare. Sarà un bel giro, Linda. Quindi la cerimonia inizierà breve. Non voglio perdermi nulla. Andiamo? Dopo di te, signorina. Ma questo che ci prova di continuo? Ma il prete? Che tipo? Mi spiaggia? Mi emozionano sempre questi momenti. Non riesco a trattenere le lacrime. L'importante è che non allaghi questo posto. Credo che a nessuno gli interesserà. In effetti, bravo. Una cosa sensata l'ha detta. Sì, 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 sì. Vabbè. Grazie, Rodrigo. Questo sì che mi fa sentire molto meglio. Ah, beata a te. Hihihihi. Ehi, sto solo provando ad aiutarti. Lo so, era uno scherzo. Vabbè, ironia zero. Tuttavia, mi devi... No, mi devi una risposta. Risposta? Quale risposta? In merito alla collana. Non ti è piaciuta? Perché non so se magari qualcuno di voi si è perso il primo episodio. O il secondo? No, il secondo episodio. Ma Rodrigo le ha regalato una collana di quelle lì proprio lussuose. Ma lei, diciamo che non è che l'abbia accettato più di tanto, questo regalo. Raga, devo abbassare un po' il volume. Ok, così va meglio. E... Certo che sì, non dovevi disturbarti. No, non dovevi disturbarti. È stato un gesto molto bello. Ma credo sia troppo. Esatto. Volevo solo darti il benvenuto. Ma vabbè, con una collana che costa più di tutta la casa, va bene. È una cosa da niente. È una cosa da niente. Vabbè. Li ha dichiarati marito e moglie. E adesso? Uh, il party sta per cantare. Oh mio Dio. Uh, 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 che ansia. Ho l'ansia per lei. Wow. Andrà sia col cappello al matrimonio? Ma che cazzo? Ma? Raga, il tizio dell'aeroporto. Raga. No, che figura di merda in piscina. Non ci credo. Linda, vengo lì. Allora, non me lo dire. Vieni direttamente ad aiutarmi senza che lo dici. Ti aiuto io. Oh mio Dio, questi fanno a botte, raga. Questi si ammazzano a vicenda. Ti comporti in modo disinvolto e chiedi di spre... No, ti comporti in modo disinvolto, dai. Senza fretta, ragazzi. Ho bisogno di uno di voi per uscire da qui. Stai bene? No, ho appena fatto una figura di merda davanti a tutti, ma sto bene. Lascia che ti aiuti a uscire. Grazie a entrambi. È solo acqua. Andrò in camera mia a cambiarmi, giustamente. Dice, torno subito. Hihihihi. Madonna. Oddio mio, che vergogna. Cioè, raga, io mi sarei andata a nasconderlo e non tornavo più alla festa. Col cavolo. Speriamo di trovare qualcos'altro da mettermi. Sicuramente, dai. Forse è il momento giusto per indossare il regalo di Rodrigo. Ma, ci sta. Allora. Vestito umido, sexy, favolosa. Favolosa. Hihihi, signori. Wow, con questo vestito farò colpo su tutti. Yeah! Non ho visto nessuno indossare questo colore alla festa. Sembra un po' l'abito che ho messo io a un matrimonio due settimane fa. Io e Linda, sorelle, comunque. Con questo look otterrai un invito. Pronto a tornare indietro e lasciare tutti senza parole? Vediamo un'altra opzione. Per forza. Non ce la faccio con i diamanti. Vabbè, vediamo un'altra opzione. Cacchio. No! Ma non è giusto, non ci credo. Spero che si asciughi presto, non ho un altro vestito da festa. Ma non è vero! Mi hai costretta tu, gioco, a mettere questo. Almeno sono riuscita ad asciugare i capelli. Vediamo. Proviamo qualcosa di meglio. Io ci provo, raga. Vediamo. Mi piaccio ed è alla moda. Ma contenta te? Ma no, non posso. No, raga, questo gioco comunque la fa apposta, eh. Mi mette in difficoltà. Eh, come devo fare? Vediamo un'altra opzione. Eh, ma questo dice che non posso nemmeno. Eh, mi sento splendida. Vabbè, ho capito, devo mettere il vestito bagnato, raga. Indosserò questo vestito. Che stronzo il gioco comunque. Pronta. Sarò solo me stessa. Sì. Che figuraccio, non ci credo. Mamma mia. Vabbè. Cosa ci fa lei qui? Signorina Brown. Che terribile caduta. Eh, sì. Beh, sì. È un peccato che il tuo bel vestito sia ridotto così. Cosa ci fa lei qui? E infatti ti ho fatto una domanda. Rispondi, grazie. Se avessi saputo che veniva, le avrei offerto un passaggio. Sembra essere una grande coincidenza. Non credo nelle coincidenze. Tutto succede per una ragione. Anche lei crede nel destino? Certamente. Ognuno ha un cammino da percorrere. Lei è la signorina di fretta. E io sono il cavaliere che la salva. Ogni qualvolta abbia l'opportunità. È vero, raga, in effetti. Perché se qualcuno di voi si è perso la prima puntata, in pratica l'ex di Linda ha cercato di tirarle uno schiaffo e lui si è messo in mezzo e l'ha salvata, diciamo. Sembra che avrà molto da lavorare. Hihihihi. Hihihihi. Per me non ci sono problemi. Vuole pranzare insieme uno di questi giorni? Raga, Rodrigo? Oh mio Dio, che facciamo? Mi butto. Andiamo, sarebbe bello. Certo, posso sempre mangiare. Conosco un piccolo posticino. Oh no, 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 raga. Ehi, Linda, dov'è la sfida della maglietta abbagnata, in effetti? Che bella collana. Grazie, è un regalo da parte di un pessimo amico. Ecco. Scommetto che è un ragazzo davvero divertente. Sei pronta a ballare? Oh no, raga, guardate questo. Guardatelo, guardatelo. Certo, andiamo. Arrivederci, signor Freer. Si dice Freer? Freer, vabbè. Arrivederci, signorina Brown. E se chiedessi al DJ di suonare la canzone della... Della sirenetta. Ma questo mi sta prendendo una caricatura un po' troppo, signori miei. Potrei essere il tuo principe Eric. Oh mio Dio, raga, che casino. Eccola lì. Linda. No, raga, non ci credo. Vorrete vedere che è Lex. Oh mio Dio. Che facciamo, raga, andiamo avanti? Andiamo avanti un altro pochino, dai, poi stoppiamo. Ti avevo avvisata che questo non sarebbe finito qui. Lo sapevo. No, raga. Oh mio Dio. Ok, quindi queste qui sono le mie decisioni della puntata. Ha ignorato la chiamata. Ha accettato l'invito di Rodrigo e ha accettato l'invito di Bruno. Quindi adesso, da episodio, dico al massimo... Sì, così mi dà una stellina... Sì, la stellina... Vabbè, raga, c'è differenza tra una stellina e un diamante. Quindi, stiamo pronti per l'episodio 3. Ma... No, grazie. Io vi lascio qui con questa musichetta. E noi ci vediamo la settimana prossima con l'episodio 3. Ma con i video, in realtà, sarà la nostra puntata 4. Pronti, raga? Vi lascio con la canzoncina.